Io ho Cristiano Ronaldo attaccato agli due giorni. A quattro persone. A quattro persone. A una che sono andata. Via! Due, tre, cinquanta, cinquanto uno. 32, 53, ma chi è scusa? Cristiano Ronaldo, quanto ragazzo? Puoi anche lasciare. Quanto siamo al 43? 53. 70. 32, 33, 35, 35, 140. 141? 42. 350. 151? 52, 35. Via. Un buio. 155? 156. Via. Aaaaaaahhhhhh! C'è proprio un messo! Non hai visto! Aiutalo! Grazie.